Un foresto che viene a trovare Chioggia da Padova Quanti anni è che viene a Chioggia? Si trova bene? Cosa dice di questo angolo della parte a sud del Busenzo? C'è la pista ciclabile? Dice l'acqua? Ma diciamo le strutture? Quindi ci viene volentieri. Ci potrebbe fare meglio? Bene, grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ecco, un settore di piano civile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vedo che sei in giro con la bambina su Busenzo. La bambina rispira un po' di aria buona ed è bellissima questa alivante per fare un po' di attività fisica perché c'è degli agi che fa bene. Ci piace qui? Se potrebbe fare qualcosa di meglio secondo te? Si, se potrebbe fare anche qualcosa di meglio. Grazie, ciao! Ok, grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!